Ciao a tutti, io sono Ellie e oggi torniamo a giocare con The Sims 4, in particolare con la simulazione Com'era? Di nuovo in ombra? No, rimasta in ombra, esattamente sì Infatti, se non avete visto il primo episodio ve lo lascio qui nella i di informazione Quindi andate a vedere prima quell'episodio perché è un episodio introduttivo alla simulazione C'è il suo passato raccontato con delle foto, appunto creato da me E quindi appunto vediamo il suo passato, come è arrivata qui a Tomaran, che cosa sta facendo, perché eccetera eccetera Allora, siamo ancora a lunedì però è quasi finito Lei praticamente, cioè siamo ancora appunto a dove ci siamo lasciati nello scorso episodio Ovviamente non sono andata avanti Lei appunto ha dormito fino alle 4 e mezza del pomeriggio Poi si è alzata, si è mangiata una pizza e ora sta giocando appunto qui a... Non mi interessa, non le voglio fare saspirazioni Oh, sta giocando, sta giocando? Oh, che sta facendo? Ah, sta facendo il troll nei forum, meglio ancora Sta facendo il troll nei forum È una giornata molto così, molto easy Domani inizieremo il nostro lavoro E praticamente l'obiettivo di questa challenge è quello di sconfiggere il nostro rivale E farci notare Perché comunque lui farà di tutto per farci stare nella nostra ombra Come ha fatto l'università E invece noi dobbiamo dimostrare che siamo più bravi di lui Sia a lui, sia a noi stesse Perché sì, avevo bisogno di un attimo di ottimismo nella nostra vita Ok, la smetti? Grazie Ok, fammi vedere un po' questa merch Vieni, smettela di videogiocare Questa non fa altro che videogiocare tutto il tempo È un'ossessione... No, aspetta, aspetta, non ho visto È un'ossessione la sua Perfetto, visto acciaio del servo Una biglia che racchiude un nucleo compatto dal motivo giallo, viola e color menta Ha un'aria quasi robotica Bip, blip, bip Oddio, bellissimo Cipolla, solo una? Ah no, spirale di Sulani Una biglia della spirale verde acqua Se la si guarda abbastanza da vicino La spirale sembra muoversi come le nebbie marine di Sulani Voilà Due nuove biglie aggiunte alla nostra collezione Grazie mille Un'altra cosa che voglio fare Visto che siamo qui Non abbiamo niente da fare Abbiamo questi giorni libri Sì, ok, non dobbiamo fare troppo tardi Perché domani lavoriamo A che ora vai al lavoro? Alle nove Eh, quindi non possiamo fare troppo tardi Ma qui c'è un tempio E noi lo sappiamo E voglio andarlo a vedere Ma è chiuso? Vai, vai, fai visita Cioè voglio approfittare di questo tempo libero che abbiamo Per curiosare soprattutto qua nella nostra zona dove abitiamo Giustamente Perché se no Che ci stiamo a fare? Qui È proprio qui Tutto a portata di mano Siamo nel centro di Tomarang E voglio vedere tutto Tutto Voglio vedere Ma quanto è bello questo tempio È stupendo Allora l'entrata No, non ci voglio parlare con te Com'è? Ti è piaciuto? Tempio d'esempio Che meraviglia architettonica Glorioso passato E la bellezza di questo edificio Non mancano di mettere di buon umore Qualsiasi sim Nova si toglie le scarpe all'ingresso Cercando di non attradarsi sulla soia È importante essere rispettosi Quando si assiste alla grande bellezza All'interno del tempio di Tinsu È difficile credere che qualcosa di così incantevole e maestoso Possa trovarsi a due passi da casa Ecco appunto Proprio per questo Cioè ce l'abbiamo a due passi da casa Che facciamo? Non ci andiamo? Assolutamente sì Peccato che non riesco a fargli una foto Decentemente Allora scatto una foto Cioè c'è il muro Però sì dai Cioè si vede solo questa parte qua Però vabbè Non importa Un pezzo Per ricordarci che l'abbiamo visitato E ci è piaciuto molto Come il mercatino Quindi così basta Sono le 11 e 20 Andiamo a casa Andiamo a dormire Subito Immediatamente Fantastico Sono le 6 del mattino Lei è già bella Sveglia Pimpante Concentrata Soprattutto Addormentata Sta proprio dormendo Buongiorno 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 No va tutto bene? Non mi parlare Lei è una di quelle persone Che non gli dovete parlare Appena sveglia Ma nemmeno dopo 5 minuti Ma nemmeno quando la vedete camminare Dovete aspettare almeno Almeno 3 ore Prima di rivolgerle la parola La mattina Se no Col cavolo Allora Perfetto Hai fatto colazione Andiamo a farci una bella doccia Usiamo sto cabinetto orrendo Fai una doccia Riflessiva Che dobbiamo prepararci Psicologicamente Per il lavoro Assolutamente Intanto Come incarichi Hai fatto tutto No Ho avuto un'illuminazione Essendo un genio Ha visto aumentare Una delle proprie abilità Più sviluppate Visto? Fantastico Andrà a letto presto Ripaga La mattina Hai le illuminazioni Mangia? Ancora Ma questa mangia sempre Mamma mia Fai colazione Con Una macedonia di frutta Dai Non so se riuscirai a cucinare A mangiare In un'ora Cioè Dobbiamo andare al lavoro Dobbiamo andare al lavoro Cara Raggiunto il livello 5 di cucina Vai mangia veloce 5 minuti 5 No niente Non ce la manciamo Sono le 9 Vabbè Una cucchiaiata È riuscita a dargliela Dai Andiamo al lavoro Su Sei girata a guardarla Ciao macedonia Ciao È stato un piacere Allora Allessa al lavoro Speriamo che vada Tu Dai promozione Dai 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 me lo sento Facciamo lavoro a sodo Sì promozione E vai E arriviamo a livello 5 Lezione nuova È un sim ambizioso Promossa A responsabile Progetto Perfetto Dobbiamo ricevere Un'altra promozione Completare l'incarico Del giorno E modificare Un videogioco Vediamo se quel maledetto Ci chiama Ansia da promozioni I sim ambiziosi Provano l'impulso Di continuare a salire Di livello In azienda Sì Con calma Con calma Una cosa alla volta Cioè ho capito Che vuoi le promozioni Le vuoi tutte subito In un attimo Ma Con calma Guarda La tua macedonia È ancora buona Mangiala E poi ci mettiamo A fare I compiti Quindi Dobbiamo modificare Un videogioco Facciamo Modifica Il MySimsGo Ok Così Faccio Sia programma Eccolo Ehi Nova Indovina un po' Hanno promosso Anche me Ho usato La mia gratifica Per comprare Dei mobili Splendendo Ho usato La mia gratifica Per comprare Dei mobili Spendendo Una follia Ho una miriade Di nuovi oggetti Appariscenti Che mi metteranno Rapidamente Di buon umore Quindi Avrò ancora più tempo Per fare carriera Niente male Bisogna spendere Per guadagnare Devo però ammettere Che non mi aspettavo Anche la tua promozione Sarà stata fortuna Quando sarò Il tuo capo Farò in modo Che simili errori Non si ripetano Ok Ok Ma che cosa Ci devi rispondere A uno così Lei vuole rispondere Anch'io Comprerò qualcosa Con la mia gratifica Quindi nel senso Ah Ok Ti sei comprato le cose Per sentirti meglio Queste cose qua Bene Lo farò anch'io Senti Non era questo Il comportamento esatto Da usare Novat Cioè Te lo dico Non sono una professionista Ah Però Non penso Che era questo Lo scopo Va bene Compra un letto Con una valutazione Energetica Di 6 Perché devo spendere I soldi Io non voglio spendere I soldi E niente E ormai abbiamo detto Cioè dobbiamo comprare Le cose costose Pure noi Spendiamo tutti quanti Non si soldi Pure noi Non capisco il nesso Perché l'ha fatto lui Continuo a non capire il nesso Di questo 12.000 Ti basta 12.000 Così siamo senza No meglio di no Ha detto Energia 6 Qualcosa di meno costoso Ecco Questo è 6 Questo pure 6 Che colore lo vuoi Allora Siccome Siamo donne E dobbiamo comprare L'impossibile Ovviamente Allora Intanto ho cambiato Gabinetto Perché non ce la facevo più Un giorno Sono resistita Un giorno Con quel cavolo Di gabinetto Poi mi diceva Di cambiare pure la doccia Di metterne una I genesette E quindi Ho messo questa doccia qui Potrei cambiare pure Il lavandino Tanti soldi Ce l'ho ancora Ma la cosa Che ho cambiato Più di tutte È tutta la camera Da letto Non mi sono limitata A cambiare solo il letto Le ho messo questo qua Le ho messo questo comodino Questa lampada Con la luna Perché come abbiamo visto Nello scorso episodio Lei ama appunto La luna I pianeti L'astronomia In generale Una sveglia Per essere sempre puntuale Il come Ho cambiato Ho messo di nuovo Appunto Le foto Qui Ecco qui Le biglie Che stiamo collezionando Un tappeto Con la luna Giustamente E di qua Le ho fatto La postazione Da gaming Perché Lei ama Videogiocare E praticamente Oltre a farlo Per lavoro Lei adora anche Giocare proprio Cioè proprio Giocare online Con Con gli altri Ecco qua Perfetto Pia pia Con calma Con calma Ecco E ultimamente Sta giocando A questo gioco Dove ti devi creare Appunto Il tuo personaggio O Hai il tuo regno E devi difenderlo Quindi appunto Ognuno è un sovrano E Devi difendere appunto Il proprio regno E giochi online Con altri Giocatori Giocando online Si può anche parlare Perché ovviamente I giochi online Hanno la chat O ti metti appunto Su discord A parlare Comunque Fatto sta Che devi parlare appunto Con questi Con questi altri personaggi Con questi altri giocatori Più che altro Che cercano di invadere Il tuo regno Oppure vogliono appunto Scambiare delle merci Quindi c'è il baratto Queste cose qua Parla 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 Iniziato Appunto Ha iniziato A Creare Un Legame Perché a forza di parlare Di giocare appunto Con questo Con questo personaggio Con questo giocatore Si è iniziato a creare Un feeling E quindi quando si trovi bene Appunto a giocare con una persona Ogni volta che siete online Si cercano Ecco lei si cerca sempre Con questo Con questo giocatore Sappiamo che è maschio Perché appunto Lui ha detto che è maschio Però non si sono mai Rivelati Il loro nome Ma soltanto Conoscono soltanto appunto Il loro nickname L'uno dell'altro E quindi niente Vi volevo Volevo aprire questa parentesi Su questa cosa appunto Perché è una cosa Che fa parte Del suo Non passato Ma del suo presente Perché è una cosa Che lei fa Praticamente Quasi tutte le sere Entra Per andare a giocare Contro il suo regno Come sta E anche per farsi Delle partite appunto Con questo Suo amico virtuale Con cui parla E tutto quanto E giocano insieme Si divertono un sacco Infatti adesso Appunto è sera E si dovremmo Programmare ragazza Abbiamo finito Di programmare Io l'ho messa appunto A giocare Adesso ovviamente Non si stacca più Perché dice No col cavolo Non mi stacco Perché mo Mi sto divertendo Sto parlando appunto Con il mio amico E tutto quanto E non si vuole staccare Niente Ho fatto una cavolata A metterla qui Però Uh Ho visto un coniglietto Ho visto che non abbiamo Un aspirapolvere Vado a comprare Oh salve Non ti faccio entrare In casa mia Perché un attimo Zozza Va bene Me ne vado Sono allergica Alla polvere Grazie Oddio che è successo Qua sotto Mi sono Cioè Scusa Ma scusami Nova Da quanti giorni Stai giocando No per sapere Perché sotto Abbiamo un problema Di polvere Sembra che non pulisci Da mesi Eh A proposito Nei compiti Mi è uscito Acquisto una bambola Voodoo Cioè Ovvio che l'acquisto Cioè Stai scherzando So persino Su chi usarla Quindi Assolutamente Sarà incappata Nova praticamente Sarà incappata In un annuncio Di pubblicità Dove dice Vuoi fare malocchio Al tuo peggior nemico Il tuo rivale Sta cercando di fregarti Il lavoro E di buttarti fuori Di diventare il tuo capo Di diventare il tuo capo E di rovinarti Stai parlando di me Sì Sto parlando proprio di te Ma questa è una bambola Voodoo Ecco E quindi Noi la compriamo Assolutamente Subito Perché acquista regali Bambola Voodoo La portatile Giustamente Ah sì Ti ho comprato il robottino Fai partire sto robottino E intanto noi Cerchiamo di finire Appunto Questo Questo videogioco Forza Ciao Vladislaus No grazie Non sei ancora diventato Vegetariano No A quanto pare No Dobbiamo ottenere La È venuto qui Vattene Via Vai via Livello 5 Di programmazione Fantastico Ma è lavoro Con fiducia Ok Dobbiamo finire Di modificare Il videogioco L'abbiamo modificato Crea un plugin O un virus Ma io creo un virus Che glielo schiaffo Nel computer A quello È mezzanotte E 20 Deve andare a dormire Domani Di mattina Mi devo svegliare Presto Hai ragione Ok Già sveglia Pronta Attiva Alle 7 del mattino Siamo già pronte Attive Colazione con la pizza Ancora con sta pizza Niente Colazione con la pizza Abitudini Di nuova Alzarsi alle 7 del mattino O alle 6 Fare colazione Con un traggio di pizza Concentrarsi 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 La mattina Appunto Concentrarsi Perché ti devi preparare Per andare al lavoro E poi che facciamo? E poi si guarda Come siamo ingrassati Ha detto che è ingrassata Quindi andiamo a fare Un po' di jogging Vai E poi si va a fare Un po' di jogging Sì sei ingrassata Grazie al cavolo Ma faccio in continuazione Devo buttare giù Qualche chichiletto Non posso permettermi Di ingrassare Ma non per qualcosa Perché Praticamente questa cosa Secondo lei La porta poi Cioè deve essere perfetta Cioè L'obiettivo è Quello di Essere come Levis In poche parole Non può assolutamente Farsi vedere Che ne so Che tipo Se lei ingrassa Lui le può dire Che si sta Si sta già Abbuffando di roba Per la sua sconfitta A queste cose qua Invece no Lei deve rimanere in forma Fantastica E Deve dimostrargli Che Lei sta lavorando sodo Che nulla La batterà Questo che cos'è Ah è una casa Sembrava un museo Dobbiamo andare al lavoro Fra 5 minuti 4 3 2 1 Vai al lavoro Vai corri Vai siamo concentrate Ah dobbiamo andare al lavoro Con fiducia E' troppo tardi E' troppo tardi Non importa Siamo concentrate L'importante E' essere concentrate Vai Lavora sodo E vediamo che cosa succede Sotto pressione Sotto pressione Il nuovo progetto di nuova E' in ritardo Sul programma Devi insistere Per far lavorare La squadra Fino a tardi O provare a convincere Il capo A concederle più tempo Aia Questo è difficile Uno farebbe far lavorare Fino a tardi La propria squadra Per finire in tempo Perché ovviamente Cioè se tu vai a chiedere Del tempo Come ragiona lei Se lei va a chiedere Del tempo Al suo capo Si dimostra una perdente Perché non è riuscita A concludere Il suo lavoro Che le aspettava Entro il termine Stabilito Mentre magari Levis C'è riuscito Però La cosa negativa Che se lo facciamo Rischiamo Che la squadra Con il fatto Che è stanca O magari c'è tanto Lavoro da fare Il lavoro Non viene svolto Come dovrebbe Però non possiamo Permetterci di chiedere Più tempo al capo Perché se lei Vi sta già consegnato No 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 E quindi niente Facciamoli lavorare Fino a tardi E speriamo Che vada tutto bene Più Il progetto è di nuovo Incarreggiata Le sfere alte Sono soddisfatte La squadra di Nova Si sta lamentando Ma almeno questa volta Ha un buon motivo Per farlo Grande E vai E vai È andata benissimo Vanessa No Valesha Ehi Nova Stavo pensando Ad approfondire Un po' la conoscenza Di Faye Sei in amicizia Ma fai quello Che te pare Non me ne frega niente Sto esultando Sto esultando Sì Scalare la gerarchia L'entusiasmo alle stelle Mettiamoci all'opera Mitica Mitica Meno male È andata bene Meno male Allora Andiamo a farci una doccia Allora Creiamo Un virus Assolutamente Crea Intanto si sta pure Ammalando Crea un virus Per il computer Non per te però Che glielo mettiamo O a lui Magari lui È troppo bravo Se gli mettiamo Questo virus Nel suo computer Secondo me Lo trova subito Però magari Possiamo mettere Questo virus Nel computer Del suo team Che magari Non se ne accorge Subito Di avere un virus Così li sabottiamo Un po' Non è male Come idea Come piano malvagio Allora Livello 6 Di programmazione Perfetto Ci manca Pochissimo Per salire Di 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 carriera Per prendere Una promozione Veramente pochissimo Meno male Che È andato bene Blocca le finestre Chiudi a chiave Le porte sul retro Nova ha messo in circolazione Un virus Questo piccolo software Spregevole L'ha già fruttato 372 Si mollono Niente Si è ammalata E si è ammalata Alla fine Dove sta andando Ah si brama La prurina No Valedetto Pensate se Pensate se Se questa cosa Gliela Cioè magari Gli ha messo tipo Una polvere Orticante Sì Me l'aspetterei Una cosa del genere Da lui Per sabotarla Guarda tutte le bolle Poverina Sta malissimo Povera Cioè ci ha sabotato Bello e buono Sicuramente Ma sta malissimo Non possiamo andare Al lavoro così Cara No 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 Non esiste Proprio Chiamo al lavoro Per prendere Un giorno di malattia Allora Vi fermo subito Sì Lo so che posso Prendere la medicina Fargliela bene E guarisce Magicamente Subito All'improvviso Ma Non ci sarebbe Il bello Della Della storia Perché così È troppo facile Assolutamente Sarebbe troppo Oddio Sto Vladislaus Ma Ma Non ci manca pure Il vampiro Che ci morde Ok Se ne sta andando Meno male Stavo dicendo Non ci sarebbe Il bello Appunto Della storia Perché giustamente Se è stato lui A sabotarci Giustamente È giusto Che se lei sta male Sta a casa Noi non abbiamo La medicina miracolosa E quindi Voglio fare La stessa cosa Perché così Resto coerente Con Una sorta Di storia Che lui Veramente Ci sta sabotando Che ne so Che cosa gli ha messo Magari lei Allergica a qualcosa E lui Ha mischiato Qualcosa per cui Lei era allergica Nel cibo O nell'acqua E non se ne accortano Quindi gli ha scatenato Questa reazione allergica Ci sta Ci sta assolutamente Tutta come cosa Robottino Stai Lavorando Allora Lei ha fame Ci cuciniamo No vabbè Mangia la pizza La pizza La stiamo mangiando Da giorni Non ne posso più Stai diventando pure tu Una pizza Ok Perfetto E visto che domani Non andremo al lavoro Ci mettiamo a giocare Appunto A il rifugio Mentre parliamo Appunto con Mentre parliamo Con il nostro Compagno Ecco Sta già molto meglio Si è ancora malata Però sta meglio Sta meglio Assolutamente E' contenta Perché lui c'è La stava aspettando Dice Oh finalmente Ma che fine hai fatto Eh lascia perdere Quel deficiente Del mio collega Mi ha Mi ha fatto mangiare qualcosa Qui ero allergica Adesso una reazione allergica Non posso andare al lavoro Domani E quindi Ecco E' molto arrabbiata Sta ammazzando tutti quanti Con il suo potere Shock Elettroshock Potevamo prendere La promozione Dannazione Potevamo prendere Una promozione Quello ci ha sabotato Perché lo sapeva Lo sapeva Che stavamo Per prendere Una promozione Però guardatele Come tranquilla Adesso che sta giocando E sta parlando Con questo suo amico Perché questo ragazzo Che lei sente La fa stare bene Però appunto Come vi ho detto Non Uh ti è passato tutto Oh l'effetto Dell'amore E' magico E' molto magico Cioè adesso veramente Tutti gli effetti Non ha più niente Che sta giocando Con il suo Con il suo amico online Però appunto Che stavo dicendo Non me lo ricordo Praticamente Lei e questo ragazzo Non si sono mai visti Ne incontrati Non sanno Nemmeno Di Alla bene o male Sanno che fanno parte Dello stesso stato Ma non si sono mai Sbilanciati Perché comunque Hanno lo stesso carattere Lei non è una A cui piace Divulgare Le sue cose Quindi Ah no Vedete sta ancora Vedete sta ancora male Non è una A cui piace Divulgare Le sue cose Quindi Ci mette un po' A sbloccarsi Con le persone Però con lui E' stato molto facile E' come se si Conoscessero Da un sacco di tempo E poi Online E' molto più facile Perché Parlare attraverso Un computer Non sapendo Che quell'altra persona Sa chi sei E' molto molto facile Cioè ve lo posso assicurare Cioè tutti quanti Penso che l'abbiamo provata Questa cosa E quindi si E' molto facile E quindi questa cosa E' molto semplice Anche per Nova Quella di appunto Sfogarsi Parlare appunto Con Con questo suo amico E raccontare Un po' le cose Essere se stessa Senza Doversi mostrare Senza avere la paura Che lui La veda Che la possa giudicare Quindi l'ora Per farvela breve Non si sono mai visti Non si sono mai incontrati Si parlano soltanto Appunto così Online E non è mai Nato niente Anche se Questo legame Che hanno Fa pensare Che Cioè Che si cercano Eccetera Eccetera Può far pensare Che tra i due Possa nascere qualcosa Ma non lo so Non si sa Lo scopriremo Nel corso della storia Per il momento appunto Visto che ho rinnovato La camera da letto Ci stava troppo bene Questo computer qui E quindi ho detto Sai che c'è Mo lo metto qui Il computer Così posso Raccontare Sì ma Bella abbiamo fatto Le tre di notte E me l'ho detto Una volta che si attacca A sto computer A giocare Chi la scolla più Niente Può stare qua Anche tutta la notte Se è per questo Tanto domani Non lavora Quindi Allora È mattina Nova sta cucinando Una strapazzata Da colazione Sembra stare molto meglio Sembra che l'effetto Dell'allergia Sia passato Però Noi ormai Siamo in malattia Anche se qua Mi dice che posso Andare al lavoro Però Noi effettivamente Siamo in malattia E io La lascio Cioè nel senso Ormai Non mi ha visto nessuno La ripeto Nella padella Tanto Ti devi mangiare tu Cioè in moto È passata la cosa Metti che ti viene Qualcos'altro Vabbè Speriamo di no E quindi Non la mando Non la mando Al lavoro Ci teniamo Questa giornata Di malattia Vedrà nessuno Vedrà nessuno Vero Assolutamente no Facciamo così No come era Ecco così Ah che bello Così ci facciamo Un tour guidato Ma che belle Queste case Tutte colorate Ci facciamo Un tour guidato Di Tomarang Così Concludiamo Questi episodi Proprio così Con lei Appunto Bloccata a casa In malattia Che però Lo dedicherà Appunto A rilassarsi A mettersi In pace Con se stessa Perché ovviamente Lei è arrabbiatissima Con lui Per questa cosa Ma Non se la prenderà Troppo Perché Sì è vero È rimasta bloccata Un giorno È rimasta bloccata A casa per un giorno Non è potuta andare Al lavoro Ma Tornerà carica Come non so cosa Infatti fare Jogging Fare sport Giocare Poi ha parlato tantissimo Con questo ragazzo Ieri online Che le ha dato Un sacco di consigli Le ha detto Di stare tranquilla Le ha detto Che l'è bravissima Che Deve credere Di più in se stessa Che sicuramente Ce la farà Ha investito La signorina Che sicuramente Ce la farà Quindi le ha dato Un sacco di carica E quindi Ha intenzione Di tornare al lavoro Sì Un giorno In ritardo Ma tanto Ieri ha concluso Il progetto che aveva Quindi Se l'è potuto fare Questo giorno Di malattia Non si guarda Il cellulare Mentre si guida Ecco abbiamo investito Un'altra signorina E' pericolosissima Questa Lo vuoi mollare Su telefono Oh E stavo dicendo Quelli che parlano In mezzo alle strisce Ma con chi Stai chattando Ok ok Allora Sta parlando Il suo amico Online Si chiama Perché almeno Così lo chiamiamo Per nome Tra virgolette Con il suo nickname Perché praticamente Appunto Ecco Sta continuando A parlare Con lui Perché se no Dire ogni volta Il suo amico Online Il suo amico Online Quello con cui gioca E' troppo lucca Come cosa Praticamente Lei online Si chiama Lady Angel E lui online Si chiama X Diablo X Cioè Quindi proprio Angelo E diavolo Cioè Bellissimo Aiuto Prudo 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 E quindi Niente Stavo parlando Appunto con Diablo Sul Sulla loro chat Che gli sta dicendo Ma che fai Sei Sei ancora in malattia Oh mamma mia Guarda Sta malissimo Ecco Chatta Gli fa Sì guarda Sto tornando Sto tornando a casa Se vuoi Ci sono Per una partita Ma Mo stanno continuando A chattare Da qui Lei è ancora più Malata di prima Dobbiamo prendere L'antistaminico Assolutamente Perché se no Sta cosa Peggiora Ok Quindi niente Lei è tornata a casa Quindi sta chattando Con Diablo Stanno parlando Non so Di cose Cose loro Cose loro Non lo so Non conosco Il simulese E quindi Niente Lei passerà Appunto Questa giornata Così tranquilla Facciamo una cosa Ordina L'antistaminico Subito Perché se no Qui Manco domani Vai al lavoro E noi domani Ci dobbiamo andare Al lavoro Per forza Perfetto Perfetto Allora Io farei Un'ultima Cosa Basta Niente È super Super Sono pronta Sono carica Stanno andando a giocare Stanno andando a giocare Su computer Vabbè Aspetto la sera Voglio andare al mercato O notturno Per andare a comprare Altre biglie Così le aggiungiamo Alla nostra collezione E niente Io la metto qui Appunto A giocare Con Con Diablo E E niente Ci vediamo Fra pochissimo Alla sera Ok Perfetto È arrivata La Aperta la bancarella Quella delle biglie Vediamo un po' Se c'è Eh si Ha bisogno di un po' Di socialità Adesso ti faccio parlare Con Diablo Rilassati Vieni qui Dove è finita Niente È triste È depressa Che è successo Solitudine Di sentitesti Per la mancata Di tempo Trascorso Con altri sim Ma è tutto giorno Che parli con Diablo Ok Arcobaleno Perfetto La classica Fantastica Superbiglia Della spirale Arcobaleno È forse la più bella Delle biglie comuni Ok L'ho messa a chattare Con Diablo Si sta calmando Si sta tranquillizzando E niente Adesso è felice Ora è assolutamente felice Ma che sta parlando Con lui Lui la tranquillizza Un sacco Lei ha un po' Questi sbalzi D'umore Perché a volte Vuole stare da sola Altre volte Invece Sente il bisogno Di avere qualcuno A fianco Perché comunque Si sente anche tanto Sotto pressione Molto E Boh Niente La lascio parlare qui Con Diablo Il suo amico Di giochi online E niente Io vi saluto Spero che questo video Vi sia piaciuto E ci vediamo Nel prossimo episodio Ciao Ciao